Ancora un riconoscimento per la politica ambientale portata avanti con determinazione dal comune di Capannori. La visita della delegazione 5 Stelle del comune di Parma, che ha incontrato stamani il sindaco del Ghingaro ed il presidente di Ascit, Maurizio Gatti, non ha connotati politici, ma insiste su uno dei cavalli di battaglia del primo cittadino di Capannori, la tutela dell'ambiente e le buone pratiche. Un incontro cordiale dove il sindaco ha potuto spiegare i segreti del successo numerico del suo comune. Capannori con l'85% di differenziazione, 90 in alcune frazioni, è tra i comuni più virtuosi d'Italia. Ma allo studio dei tecnici e amministratori pari e menzi, rappresentati dall'assessore all'ambiente Gabriele Folli e da Raffael Rossi, c'è anche la politica rifiuti zero e la tariffa puntuale. Capannori è per noi un modello, ha spiegato l'assessore Folli, ed è nostra intenzione cercare di capire come poter esportare l'esperienza di questo comune nella nostra realtà. Col 35% in meno di rifiuti indifferenziati dal 2009 ad oggi, dato destinato a crescere grazie alla tariffa puntuale, la politica di smaltimento rifiuti di Capannori è ritenuta all'avanguardia. È stato certamente un incontro costruttivo, che sparta da una parte l'idea che i Cinque Stelle non si confrontino con realtà diverse dalla loro e dall'altra certifica l'operato di Ascit e comune di Capannori. In chiusura del Ghingaro ha anche annunciato novità sulla pulizia delle strade. Assieme ad Ascit, infatti, avvierà un servizio per rimuovere dai cigli e dalle fosse rifiuti, che sarà affidato ad una cooperativa sociale e aggiungendo così un duplice obiettivo, quello del decoro urbano e di recupero di persone svantaggiate.